Dolore, tormento, il mio odio brucia nelle profondità cavernose. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il mondo stesso condivide il mio strazio. I suoi miserabili regni tremano davanti alla mia rabbia. Ma alla fine tutta Azeroth si spezzerà e brucerà sotto l'ombra delle mie ali. Il mondo stesso condivide il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.com Grazie. 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 Grazie.